Grazie Presidente. Faccio due considerazioni. La prima è una battuta, poi invece vado sulla parte più seria e mi rivolgo al collega Berti, con il quale abbiamo fatto qualche sera fa un convegno insieme. Come tu vedi quella collega, al di là del merito sulla riforma costituzionale e sul ruolo degli eventuali consiglieri giornali che andrebbero a Roma a fare i senatori, come tu vedi, anche se abbiamo idee diverse, potremmo tranquillamente, tre di noi, cinque di noi, star via una giornata e non succede niente. Perché come tu noti, qua il problema non è che stiamo producendo cose talmente importanti che se manca qualcuno qua il consiglio regionale. Quindi da questo punto di vista, come tu noti, quell'argomento, almeno per il Veneto, non è molto sensibile. Ma era tra me e te e ho rubato qualche secondo, succede poco. Invece Presidente, la domanda che mi pongo io è politica. Abbiamo accantonato un emendamento, condividendo l'accantonamento, che riguarda il comma 1 di questo articolo. In quel comma 1 accantonato, lei non c'era Presidente, c'era il collega Giorgetti, l'abbiamo accantonato perché non sapendo quale sarà l'organizzazione delle ULS, 7, 9, 14, 22, 21, 28, quello che sarà, quell'articolo votato avrebbe pregiudicato il resto della legge. Lo dico sommessamente, votando questi articoli, noi stiamo pregiudicando il risultato finale. Allora è vero che oggi votiamo Belluno e Feltre, qua non c'è il collega Bond, non c'è il collega Reolon e non c'è il collega Toscani. Voi sapete perfettamente che se ci fossero qua per quelli che c'erano, questo articolo non si voterebbe mai, finché non c'è un quadro chiaro. La domanda mia è, avendo accantonato un emendamento soppressivo del primo comma politicamente, non è accantonato tecnicamente, ma politicamente, ha senso finché non facciamo una quadra su quell'accantonato, votare i successivi? Io capisco che queste qua, che sono emendamenti nati per uno spirito anche di ostruzione, ma stiamo pregiudicando l'accantonamento. Non so se sono chiaro in quello che dico, ma la discussione sull'accantonamento era che pregiudicava l'assetto. Stiamo votando pezzi di assetto qua, perché una volta che questo emendamento soppressivo non passa, il comma areth in legge ormai no. Quindi il fatto che il comma areth in legge pregiudica la discussione sui principi che abbiamo chiesto alla maggioranza rispetto al numero delle US. Allora, uno potrebbe che dimmi, ma di bell'uno non si è mai discusso che resti bell'uno o feltre rispetto al quadro complessivo. Ma è un problema di principi. E allora, mentre il collega di Azzalin prima ha chiesto la sospensione finalizzata a... Io non chiedo sospensioni, ma dico alla maggioranza. Vi rendete conto che in questo modo rischiate di pregiudicare il risultato? E non preoccupatevi, non siamo impauriti dai tempi, perché ogni forzatura temporale della maggioranza arrivano emendamenti che fanno dieci volte il tempo che voi chiedete. Quindi la stanchezza prenderà voi, non noi. Perché ogni volta che gira voce che per fare la forzatura allungata di mezz'ora la discussione, e cosa volete che sia? È molto più semplice fare trenta emendamenti e presentarli. Vito che ne votiamo uno ogni tre quarti d'ora, ho l'impressione che sia un suicidio rispetto al futuro. Allora io pongo un problema di tecnica politica, ma lo domando alla maggioranza. Non è che sia il caso che questa parte, che è propria di quel ragionamento politico che stiamo facendo sul tentativo di sintesi, di metterla da parte in funzione di un tentativo di risultato, non si vuole. Si vuole andare avanti a muso duro. Come diceva prima il collega Coleto, quando parlavamo così scherzosamente, dal 18 entra la madia. Quindi già l'azienda Zero avrà un nominato con terra nazionale, perché è una ULS, no? Se andiamo avanti così, peggioriamo la situazione. Cioè, vi state dando la zappa sui piedi. Consiglio è, non è il caso di approfondire per capire se c'è una linea di caduta senza farsi male votando in maniera politica di emendamenti. Punto di domanda.